Poteva cambiare la partita con un rigore trasformato, ci sono due ingenuità di due ragazzi, uno è di Falle e l'altro di Sartori, quindi Sartori ci ha dato quel brio che ci aspettavamo di creare qualche situazione favorevole, l'ha creata, Falle chiaramente mi sembra che ne abbia fatto un po' di più di questi errori sul dischetto. E il terzo rigore è sbagliato? Per poterla mettere a posto, è chiaro che con l'arrivo di Nicastro mi permette anche di fare un sistema di gioco che magari conoscevano molto meglio prima, che l'hanno fatto per tanti mesi, però senza l'arrivo di Nicastro io non vedo un altro attaccante esterno che potesse fare il 4-3-3. Questa è un'analisi che ho fatto, poi si può fare tutto, però quello che conta non sono tanti numeri, ma è la testa. Non ci dormo con la notte perché vorrei dare questa grande soddisfazione anche al Presidente che è giovane e che merita anche lui che questa squadra si rialza e soprattutto che raggiunge l'obiettivo. Nelle cordie ci sono, nelle qualità ce l'hanno, però è anche un problema mentale in questo momento qui perché questi ragazzi stanno soffrendo il fatto di non vincere una partita che dia veramente la mentalità per non farli fermare più.